Bello a tutti ragazzi, sono di nuovo io, Nicolas, che è Nicolas Pujol nel mio canale, però sono andato nel canale del mio madre perché il mio telefono ha portato il mio madre, quindi facciamo un vlog. Ecco, ok, cosa possiamo fare, quindi, 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 non so ancora, però dove, dove, no, questo qua, ecco, questa macchinina, forse oggi quando è arrivata mia madre faccio un vlog, poi mio nonno ha regalato questo, però facciamo un vlog. Quindi, sì, sì, arrivate il 5 iscritti, 5 like, 5 mi piace, facciamo di nuovo un video, quindi, mio cugino ce lo faccio, 7 iscritti e, boh, nel secondo, quanti like, quindi, ragazzi, Io vado via, vado in Filippine, faccio un tour, comunque in Filippine, lì faccio il video in Filippine, però potete ancora vederlo, forse in computer faccio il video in computer o in telefono ancora, quindi, Quindi, queste mie arance, che porto anche in Filippine, se si può portare, per far rifrofumare le miei vestiti. Ecco, adesso facciamo il vlog, ormai sto già facendo il vlog, questo Marian, vita di Marian, privato, che ha fatto un video bellissimo, 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 proprio bellissimo, in senso che, in senso bellissimo, eh, è troppo bello il suo video, perché, però, ha fatto poco, quindi, ciao, ci vediamo, ci vediamo alla prossima.